Quest'anno abbiamo investito tantissimo in situazioni nuove, siamo venuti a Sisebe 2019 che corrisponde perfettamente anche 50 anni di nascita del marchio, abbiamo studiato prodotti nuove, linee nuove, ci siamo impegnati e fortunatamente siamo riusciti ad essere qua. Oggi i locali sono molteplici, la loro funzionalità deve essere un po' ampia, dal mattino alla colazione, alla sera all'aperitivo, quindi tutta una serie di modulistica che permette questo utilizzo che può spaziare nell'ampiezza dell'offerta. Abbiamo creato la zona caffetteria, abbiamo creato la zona cocktail, tutta una serie di situazioni di banchi che oggi sono a libero servizio. Anche grazie alle partecipazioni e alle collaborazioni con aziende, nostre amiche con le quali collaboriamo nel mercato, abbiamo reso vive le vetrine rendendole piene di prodotto che può essere anche dato e assaggiare ai clienti. Abbiamo creato delle collaborazioni con aziende che ci aiutano poi nella realizzazione del locale, andando a studiare quelle particolarità di arredo che fanno poi la differenza nel totale dell'arredamento del locale. Siamo andati principalmente in strutture nel discorso del ferro, oggi permette anche una grossa personalizzazione, col ferro usando delle polvoli idonee, possidi che puoi comunque seguire la collaborazione che ti viene richiesta del cliente. Stiamo attenti nel seguire il discorso delle mode, dei colori, bisogna essere sempre sul pezzo per capire bene come sta andando il mercato. La vetrina che ci sta dando tantissime soddisfazioni è la Fest, vetrina che ci permette su richiesta di questa catena raggiungere il freddo a 4-5 gradi anche nella seconda messa alla superiore. Abbiamo soddisfatto le loro aspettative, la stiamo sfruttando perché comunque è un prodotto che il mercato recepisce in maniera importante. Altra vetrina è la Icon, una vetrina a tavola fredda che Paolo utilizzo per le esposizioni di prodotti panini, torte, oppure c'è anche la possibilità però di avere la vetrina a tavola calda, quindi la gamma, la nostra è completa, può soddisfare qualsiasi richiesta e esigenza. L'altra vetrina è la Gravity, è un progetto estetico molto particolare con un montante importante in Corian, quindi l'utilizzo anche qui di materiali di una certa importanza. SIFA è esperienza, passione, innovazione a servizio del cliente. Grazie. Grazie. Grazie.